Newslibri.it presenta Le favole di nonna Claudia di Claudia Claretto e Franco Marani Tutta una vita con i bambini Ho inventato per loro centinaia di favole e molte le abbiamo scritte insieme Fiorivano storie che ci portavano in mondi lontani, sulle ali della fantasia e dell'amore Ci sono anelli e galline magiche Secchi che rapiscono la luna Gatti che diventano sindaci Cani laboriosi Lucettole arcobaleno Storie di grandi amici E non poteva mancare il rospo che si trasforma in principe, ma con sorpresa Un bambino, che ascolta e collabora a creare favole e narrare storie vere Sarà un adulto sereno, perché saprà attingere al sacco della felicità Questo libro è nato perché un giorno ho incontrato un unicorno di nome Franco Che mi ha presa per mano, aiutandomi a realizzare il sogno di regalare il mio mondo delle favole Il libro Le favole di nonna Claudia di Claudia Claretto e Franco Marani Lo puoi acquistare sul sito newslibri.it